Massimo Zanelli, il 45enne gestore proprietario del Bicerini al quartiere di Borgo Santa Caterina Bergamo e scomparso a 45 anni, era una figura molto rispettata nella zona, particolarmente amato dai tifosi dell'Atalanta che frequentavano il suo locale come una seconda casa, conosciuto dagli amici come il Mussi, lascia un figlio piccolo che aveva adottato con la sua ex moglie scomparsa due anni fa, nonostante avesse fatto un secondo matrimonio, Zanelli lottava contro una malattia a lungo termine ed è purtroppo deceduto il 31 ottobre, la sua scomparsa ha suscitato un'onda di cordoglio sui social media con centinaia di messaggi di condoglianze. Grazie a tutti! Grazie a tutti!